Ci sono molte cose controverse nella storia della filosofia, anzi in realtà praticamente tutto è controverso nella storia della filosofia, forse una delle poche cose non controverse è che il fondatore della filosofia moderna è Cartesio e a partire dall'evento che Cartesio rappresenta nella filosofia che si passa da una tradizione che tutto sommato era ininterrotta dai greci, dai latini fino alla scolastica, si entra in un nuovo modo di organizzare la filosofia, di concepire la filosofia che è il modo che funziona tuttora, questa è stata la grande trasformazione e del resto l'epoca in cui nasce Cartesio facilmente si presta a trasformazioni di questo genere, nel senso che lui nasce nel 1596, quindi all'inizio, all'alba, nell'epoca delle prime rivoluzioni scientifiche e quindi figure come Keplero, Torricelli, Galilei per la scienza e lui ne è l'equivalente per la filosofia. Il fondatore della filosofia moderna inoltre non pensava a se stesso come a un filosofo che fa un'attività significativamente diversa da uno scienziato oppure da un matematico, lui aveva ancora un'idea unitaria del sapere, che in fondo questo sì è venuto meno con la filosofia moderna, per cui lui era convinto di essere al tempo stesso uno che faceva delle ricerche matematiche, ne ha fatte, sono stati importanti, di fare delle ricerche scientifiche esattamente come Galilei che ne è contemporaneo e in effetti, come vedremo, lui per esempio aveva avuto esattamente come Galilei l'intuizione che il Sole è al centro del sistema solare e l'aveva scritto in un libro intitolato Il mondo, ma si guardò bene dal pubblicarlo per l'appunto dopo aver visto cos'era successo a Galilei e poi accanto a questo aveva dato delle regole per il metodo scientifico, per il comportamento etico, l'analisi delle passioni, quindi diciamo una specie di intellettuale a tutto tondo, cosa che adesso forse non si può più concepire.